Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Giuseppe Bennati, ho 7 anni e la mia passione è la motocross. Cinquantino di competizione. Ora ve la faccio vedere. Questa è la mia motocross. Ora io girerò in questa pista che mi ha costruito mio papà. Questa è la mia motocross. Questa è la mia motocross. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.